Vi avevo promesso un video di aggiornamento e sembrava che oggi potesse essere una giornata dalle decisioni importanti. Il Milan ha preferito soprassedere, almeno fino a quando sto mandando questo video. Domani ecco la novità, sembra che ci sia l'intero staff dirigenziale da andare a Milanello, probabilmente per capire bene la situazione parlando con i giocatori e con Giampaolo. Che cosa possano dire, che cosa possa succedere non ho sinceramente idea. Indubbiamente quello che si sta vedendo in campo fa capire che i giocatori in questo momento abbiano un'autostima molto 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 bassa. L'allenatore quando dice questa squadra sembra che non si sia malenata, nel senso che non sembra che non abbiano mai giocato insieme, mi sembra questo il significato, dice delle cose piuttosto severe nei confronti del suo lavoro, nel confronto dei giocatori. Adesso vedremo le decisioni delle prossime ore, sembra però che allenatori importanti non siano ancora stati contattati, oggi si sono fatti tanti nomi. Shevichenko, ecco la prima notizia, ha detto che vuole portare l'Ucraina e giocare un buon campionato europeo e quindi si è tirato fuori. García sembra sia stato probabilmente un contatto ci sarà stato, ma Sara lo conosce bene fin dai tempi della Roma, conosce le caratteristiche di questo allenatore. Massimiliano Spalletti, sono qui a Tele Lombardia, ha detto che assolutamente vuole continuare, tra virgolette, per adesso a fare il contadino, oggi ha raccolto l'UVA. Massimiliano Allegri non sappiamo quale sia la situazione, anche se sarebbe forse la persona più adatta a risolvere questa situazione. E dunque si va avanti per adesso con questi nomi, con queste ipotesi, ma intanto mi sembra che quell'ipotesi di andare avanti fino a sabato, che questa mattina parlando con qualcuno poteva essere una soluzione, ma magari si sarebbe potuto anticipare eventuali decisioni, sembra che invece si vada avanti fino a sabato. Che Milan sarà sabato contro il Genoa? Non abbiamo la più palle d'idea, un Genoa che ha confermato Andrea Zoli, sono due squadre totalmente malate in questo senso e quindi vedremo, vedremo quale saranno le ipotesi nel corso, ma probabilmente si andrà veramente avanti e poi ci sarà la sosta. Ma anche lì la sosta con 7-8 giocatori da allenare, non so quale potrebbe essere il vantaggio sia per un allenatore che subentra, sia per un allenatore che deve cementare la situazione. Certo che migliorare il Milan del match contro la Fiorentina non sembra difficile, visto che è stato un match totalmente negativo, è un match che ha visto il Milan con un'autostima da parte dei giocatori sotto lo zero, giocatori che non certamente possono giocare a questi livelli. I tifosi sono sconcertati, non sanno più a che cosa pensare, non sanno più a chi appigliarsi. Oggi ha parlato anche uno dei leader storici della curva, Giancarlo Capelli, dicendo che c'è stato nessun programma, è stata una spontanea manifestazione, proprio stanchi i tifosi. I tifosi sono stanchi, vedremo i dirigenti, l'importante è che si trapeli che ci siano delle idee chiare, si vuole andare avanti con l'allenatore però c'è troppa paura che si riveda uno spettacolo come contro il Genoa. Io proprio ho scritto che in questo momento, e lo ribadisco, il Milan non sia in grado, questo Milan, questa squadra, questi giocatori, di battere alcuna squadra perché hanno troppa paura, non sono sicuri, hanno giocato così bene quel primo tempo con un Torino francamente non irresistibile, però è troppo poco. L'allenatore oggi doveva andare a parlare una manifestazione con Allegri, Gianpaolo, forse il Milan giustamente ha preferito che non vada ancora in pubblico, domani sarà una giornata caldissima a Milanello, però dopo questa giornata i dirigenti decidano, se vedono che i giocatori hanno ancora l'occhio rivolto e si fidano dell'allenatore, allora lo tengano, ma se hanno qualche dubbio è meglio in ogni caso cambiare. Devono deciderlo parlando con i giocatori, certo i giocatori non devono solo dire siamo vicini a, come ha detto Romagnoli, siamo vicini all'allenatore, lo devono dimostrare in campo. Contro il Fiorentina sembrava veramente una squadra in stato di generale confusione, uno spettacolo veramente che mi ha impressionato nella sua negatività. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelegato.